Ok Moreno, eccoci, eccoci qua. Allora, sono veramente contenta di averti qua, come con Chiara prima di essere, come dire, colleghi e amici, esatto, prima di tutto amici, quindi sono veramente contenta perché te sei stata uno dei primi illustratori che ho conosciuto, io mi ricordo quando ero piccolina, che non so se anche te ti ricordi, però dovevo fare tipo uno stage e la professoressa all'Istituto d'Arte ci aveva detto guardate che c'è questo artista, questo illustratore un sacco bravo e quindi potete in qualche modo chiedergli consiglio e poter magari farci uno stage e fare quattro chiacchiere e mi ricordo appunto questa prima introduzione alla biblioteca delle nuvole e quindi oltre appunto ad esserci proprio un rapporto professionale, c'è proprio prima di tutto un rapporto d'amicizia e sono veramente contenta. Ormai sono diverti anni. Sono anni, sì, non sembra ma... Eh ma tu sei più giovane di me di Italia. Eh vabbè però c'entra poco insomma, il tempo passa un po' per tutti. Sì sì, qualcuno è passato prima però. No vabbè allora, poi io ci dici tu il tuo lavoro professionale, la tua storia, però insomma io so che lavori per importanti case editrici, che hai un'esperienza insomma veramente ampia nel settore, quindi chi meglio di te in qualche modo può raccontare uno spaccato appunto la sua personale storia riguardo a cosa significa essere illustratore, cosa significa avere rapporti con gli editori, cosa significa riuscire a non in qualche modo sottovalutare o svalutare il proprio il proprio lavoro e appunto la propria creatività in questo senso se vogliamo chiamarla così e quindi secondo me il tuo intervento, la tua intervista è preziosa proprio in questo senso perché hai veramente tanta esperienza e non tutti sono disposti a condividerla, quindi grazie perché ti rendi disponibile. Grazie a te della responsabilità. No vabbè però in qualche modo. Tu lo sai che sono sempre contento di dare consigli per quanto possano essere poi validi insomma. Certo. Diciamo dicendo sì io ho una certa esperienza ma comunque sono una persona normale insomma come tutti che ama il proprio lavoro quindi diciamo ovviamente ho la fortuna, ho avuto la fortuna di cominciare molto presto e quindi essere arrivato a una certa età e quindi questo porta comunque ad avere un'esperienza direi più che quarantennale sulle spalle ma cioè però ecco io non è che ho cominciato subito facendo l'illustratore. No ma infatti spiegaci un attimo come come è iniziato perché anche capire sì sì no diciamo che io ho sempre disegnato nel senso io ho iniziato a disegnare forse ero un mostro mi dicevano all'epoca perché io a due anni già facevo le macchinine da corsa col pilota dentro il fumo ricciolino di fumo che ci va dietro però ho sempre disegnato e ovviamente però ecco in tempi non sospetti non c'era questa diciamo esplosione come c'è adesso insomma anche quei social quei mezzi di comunicazione quindi ho sempre disegnato per me poi ho avuto l'esperienza che sono andata a roma mentre facevo l'istituto d'arte poi ho fatto l'accademia poi sono andata a roma sono andata a roma mi sono buttato diciamo nel mondo del lavoro con un illustratore famoso all'epoca che faceva le copertine per i dischi lavorava per una rivista delle riviste musicali e diciamo io facevo il suo assistente insomma quindi ho imparato tantissime cose non c'era il digitale quindi si lavorava in aerografo si lavorava con le tecniche tradizionali poi ovviamente con lui sono entrato a lavorare anch'io nel avere rapporti con le riviste musicali e diciamo il primo fumetto vero e proprio che ho fatto è stato con la rivista rock star e ho fatto rock story che era la storia del rock a fumetti sì in 130 pagine insomma quindi usciva mensilmente all'interno della rivista e quindi e all'epoca credo di essere stato il primo al mondo avere fatto la storia del rock a fumetti insomma perché non ce n'erano altre e arrivava fino agli due insomma che è del momento insomma poi questa storia del rock mi ha portato essere ospite a treviso comics nell'86 le tavole su elvis presley esposte alla mostra su elvis presley a venezia quindi da lì poi si è sviluppata una cosa fino a che poi sono diciamo prima di intraprendere l'attività di illustratore ho fatto ho lavorato in pubblicità lavorando per delle agenzie a roma grandi agenzie dove ero assistente al director poi sono tornato in umbria e poi ecco ho lavorato in pubblicità con le agenzie umbre fino averne fondata una con altri soci e praticamente ho fatto l'art director poi a un certo punto ho detto adesso basta insomma perché facevo anche l'illustratore della pubblicità e quindi diciamo ho cominciato a muovermi a mandare i miei book in giro per le case editrici chiaramente ho puntato subito in alto c'è grandi case editrici e praticamente come succede di solito tu mandi i tuoi portfolio e nessuno ti chiama quindi io ho ripreso tutte le case editrici a cui avevo mandato ma io ti parlo di mondatori giunti questa gente qui case editrici con cui lavori anche attualmente non so se si può dire ma con qualcuna non più perché è stata forse anche una fortuna che non sono tutte diciamo papabili insomma ecco e niente io ho mandato questi questi portfolio e non mi hanno risposto io quindi ho insistito ho mandato il portfolio un'altra volta lo stesso ma nel momento in cui io li ho spediti li ho chiamati per telefono me la ricordo questa cosa e ho detto allora io sono un illustratore vi ho già mandato il mio portfolio ma nessuno mi ha risposto io lo sto rimandando un'altra volta e vi avverto di una cosa cioè a mio rischio che pericolo ho detto io ogni 15 giorni vi chiamo o mi dava il lavoro o mi mandava a quel paese sì 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 me la ricordo questa cosa la mattina il pomeriggio sono arrivati subito i lavori da giunti e da mondatori dopo da lì si è sviluppata tutta una cosa dopo sono arrivati per esempio di Agostini è arrivata perché io l'avevo contattata per tantissimi anni di Agostini ma non mi hanno mai filato poi alla fine sono fatti avanti loro poi è arrivato Zanichelli poi è arrivata Lapanini e sono loro che mi hanno cercato vedendo le mie cose quindi questo mi ha gratificato però questo mi fa pensare a una cosa e ci insegna una cosa secondo me che non bisogna abbattersi ai primi no cioè una cosa che anche Chiara ci ha detto nell'altra intervista ma tu sei stato molto combattivo cioè quasi minacciandoli perché guardate voi fate quello che vi pare però finché io sono un qualcuno mi dice qualcuno del nostro gruppo non facciamo nomi mi dice che sono il famoso K non facciamo nomi non facciamo nomi però io non mi interessa questo perché voglio dire se uno è consapevole delle proprie capacità deve insistere se poi di queste capacità vuole farne un'attività un mestiere diciamo perché no però ecco io dico sempre anche un'altra cosa che va dicendo anche a questo che bisogna sì essere bravi quindi bisogna migliorarsi sempre però io dico sempre che la bravura e la tecnica che si imparano cioè poi si sviluppano non sono sufficienti per andare avanti ci vuole la passione la passione che ti porta a fare sacrifici e avere anche la faccia tosta capito? perché avere la faccia tosta non sempre è conveniente perché qualcuno veramente può mandarti anche a quel paese insomma veramente però l'importante è mai abbattersi capito? quindi sempre essere cioè essere consapevoli delle proprie capacità capito? perché dire sì sono bravi se uno è bravo lo sa ovviamente non lo deve sbandierare qualche momento perché dice uno dei tanti delle tante qualità di un artista è quello di non fare di se stesso un idolo insomma sono gli altri che ti devono dire però ovviamente se tu hai queste capacità è inutile negarlo e la passione ti porta anche a dire va bene io faccio queste cose perché mi piace e faccio piacere anche agli altri perché poi quando le tue cose piacciono agli altri quella è la maggiore delle gratificazioni tutta la gratificazione economica che quella ovviamente serve ci mancherebbe però quando le tue cose piacciono capito? la gente le apprezza è questo che comunque ti appaga no? giusto no no sono pienamente d'accordo sono pienamente d'accordo sono d'accordo ma questo l'avevamo detto appunto anche con l'intervista insieme a Chiara che la bravura non è sufficiente la tecnica non è sufficiente cioè ci vuole la costanza la perseveranza la faccia tosta il coraggio di non di rifiutare ma di accettare i no e di continuare a provare finché cioè se uno è veramente convinto di quello che sta facendo un no non lo abbatte cioè vai anzi dire il contrario dire il contrario cioè è uno stimolo per cercare di migliorarti capito? logico no 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 questo assolutamente e secondo me si ricollega anche al fatto di non svalutare appunto il proprio lavoro cioè il fatto di essere consapevole che in qualche modo almeno se non sei bravo però c'è la passione poi alla fine come dici tu mano a mano che uno va avanti la tecnica e la bravura l'acquista perché se c'hai passione per una cosa vai avanti anche se all'inizio può sembrare che non che non porti risultato però mano a mano continuando ad essere costante i risultati arrivano devono arrivare per forza sai la passione la passione è quella cosa che ti porta a fare sempre nuove ricerche scoperte quindi a migliorarti no perché la passione diciamo è il carburante di questo di questo lavoro di questo mestiere diciamo perché la bravura è la tecnica cioè se tu non la sviluppi cioè rimane sempre lì cioè a 20 anni sei bravo a 40 sei bravino a 60 sei un cane se disegni come quando sei 20 anni è logico io vado a riprendere le cose quando facevo 20 anni ovviamente adesso mi vergogno ma ho detto vabbè però c'è anche ci sta anche quello perché è comunque no un escalation della propria attività ma è normale questo questo è normale insomma l'importante ecco crederci nel proprio lavoro quella è la cosa più importante no 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 assolutamente sono d'accordo sono d'accordo con te perché è necessario essere consapevoli di quello che uno di quello che uno è e di portare avanti le proprie passioni questo è è il primo non dico che è il primo step perché alla fine anche uno la come dire l'autostima perché in questo caso ci vuole anche un minimo di autostima per poter essere costante e credere in quello che uno fa perché se uno non ha autostima autostima e autocritica esatto insieme perché se no uno come dici te rischia di idolatrarsi no e dice so sto cavolo per non dire altro esatto però è importante appunto poter iniziare a fare a fare questo percorso ed essere consapevole di questo e molto spesso il fatto di magari essere come dire bravi inizialmente ti porta anche un po' a crogiolarti sugli allori qualcuno lo fa e poi dici vabbè è tanto bravo a talento che è una cosa che io odio non so tu però io lo odio odio anche io a talento sicuramente farà grandi cose sì se continua a perpetrare a perpetrare a continuare il proprio il proprio percorso certo certo ma è così ok io ti chiedo adesso ti faccio una domanda perché immagino almeno il format che sto cercando di portare avanti serve un po' anche a me no anzi tanto a me perché diciamo che ma alcuni aspetti no per altri sì nel senso che io sto nuotando adesso sono le prime interviste che sto facendo però comunque sto sentendo anche i prossimi che intervisterò e noto che vengono fuori degli aspetti che magari sì li comprendi però sentendoli da qualcun altro scopri delle cose non dico nuove ma che magari non avevi approfondito come volevi no e poi io cerco di fare appunto questo format in modo tale che chi non dico abbia difficoltà ma chi è incuriosito chi magari ha i dubbi che avevo un tempo io perché io sto pari pari cercando di mettere su web i dubbi ma i dubbi ce li abbiamo tutti eh lo so io ce l'ho eh non è stato molto spesso appunto penso che è difficile anche ammettere di avere dubbi uno dice vabbè per qualcuno non per tutti però io per esempio il primo video che ho fatto insieme a Chiara troppo tardi per essere illustratore cioè io non so mi ricordo che abbiamo parlato anche con te e tu mi dicevi ma Auro è giustamente a momenti mi mandi a quel paese ma giustamente Auro e quindi niente la domanda che secondo me qualcuno si potrebbe fare che volevo fosse in qualche modo l'argomento del video è appunto come secondo te un giovane illustratore può riuscire ad avere più autostima più coscienza del proprio lavoro e quindi riuscire di conseguenza a non a non svalutarsi quindi a non svalutarsi anche nei momenti in cui si presenta a una casa editrice perché può succedere secondo me a me è successo che ti presenti ad una casa editrice non sei convinto di quello che stai presentando svaluti già di principio il tuo lavoro e quindi ti metti nelle condizioni di non fare una bella figura tutto sommato ma non è solo la bella figura è proprio l'approccio che è sbagliato secondo me e quindi anche la casa editrice vedendo che tu sei instabile dice non posso affidare un compito in una persona che non è non sa prima di tutto appunto valutare il proprio lavoro non è consapevole di se stessa e è instabile fondamentalmente quindi volevo sapere da te non so se sono stata chiara sì sì chiarissima chiarissima però devo fare riferimento anche a qualche anno fa quando andammo a Bologna insieme sì esatto esatto è proprio è proprio quello da lì ho imparato poi tante cose sinceramente perché per altri aspetti appunto diciamo che adesso sono sono contenta di quello che sto facendo ho veramente un sacco di cose da imparare però sono abbastanza soddisfatta di come sta andando il percorso però quello step a me quel momento mi è servito veramente tanto e volevo capire da te appunto quali sono stati i tuoi momenti e come consiglieresti ad una me di qualche anno fa di affrontare quei momenti allora qui il discorso è un pochino più complesso nel senso è un problema caratteriale nel senso che bisogna prima di affrontare queste diciamo queste cose bisogna farsi un'analisi di coscienza del proprio carattere quindi cercare anche di trasformarlo un po' il proprio carattere perché appunto sai la paura di l'ansia di prestazione nel senso la paura di andare a parlare con un editore e proporsi quella è la cosa più drammatica per tutti penso quindi qui è un problema caratteriale quindi bisogna forse non lo so cercare una strada un po' diversa da quella che è il proprio carattere quindi fare uno sforzo capito quindi prepararsi diciamo recitare una parte nei confronti dell'editore poi come ti dicevo io quando andammo appunto a Bologna che tu facevi vedere le tue cose e quando un editore ti dice sì è bravo ha talento appunto ha talento è bravo però queste non sono le cose che facciamo noi allora io dico sempre chiudere il book e andarsene è sbagliato cioè nel senso sì se tu sei bravo quindi hai delle capacità e quindi poi chi ha delle capacità è in grado anche di variare nel proprio stile cioè inventarsi degli stili io dico sempre quando un editore ti dice sì sei bravo ma non sono le cose che facciamo noi tu non devi arretrare devi subito dire cosa fate voi mettetemi alla prova poi va va se non va pazienza certo e quello lì praticamente l'editore fa scattare diciamo la valvola e quindi ti dà anche che sai a me mi è successo vedere anche gli editori che quando tu appunto sei un po' titubante un po' pauroso cioè loro anche se volessero affidarti un lavoro difficilmente te l'affidano perché magari hanno paura che ci sono lavori che si risolvono in una settimana ma ci sono lavori che vanno avanti per due tre anni come è successo a me anche con De Agostini cioè capito lavori che vanno avanti veramente per tanto tempo quindi loro devono avere la certezza che tu professionalmente sei una persona forte reggi convinta reggi e reggi capito perché mi è successo questo con Zanichelli mi è successo di rimettere mani su lavori presi da illustratori che poi a metà strada hanno abbandonato quindi lì e poi il problema è che non è che tu ti metti a finire il lavoro cioè devi ricominciare da capo quindi bisogna essere aggressivi quindi ci vuole un po' di carattere bisogna essere aggressivi con gli editori ovviamente ha ragione non ha torto perché non è che tu no no ho il logico però devi far vedere insomma che tu sei sicuro di te capito quindi sia dal punto di vista del rispetto delle scadenze rispetto delle regole deontologiche quindi che però tu sei in grado di dire sì io prendo questo lavoro e lo porto fino alla fine quindi questo l'editore è molto attento perché poi è anche uno psicologo l'editore quando ti guarda insomma poi ovviamente se magari trovi l'editore anche un po' squalo perché poi questo è un mondo pieno di squadra che magari vede a te che sei una persona che ha bisogno di lavorare di entrare nella cosa e poi se ne approfittano anche quindi no bisogna stare attenti sicuramente molto spesso molti editori ma non i grandi i grandi no perché questo non lo fanno che anzi i grandi come ti dicevo appunto loro sanno anche il valore del lavoro e molto spesso cioè sono loro che ti propongono i budget non nel lavoro perché sanno quanto possa valere il lavoro ma ci sono molti editori più piccoli che ti dicono non ti pago perché ti do la possibilità di pubblicare le tue cose tu devi essere contento perché le tue cose sono pubblicate no non è assolutamente no infatti anche secondo me non è accettabile ci fai soldi con le tue cose quindi è giusto che tu venga pagato no infatti anche di questo vorrei parlare perché a me è capitato inizialmente e poi anche tu mi sa che lo sai insomma sai dalla storia che a me mi hanno detto proprio così cioè va bene tu ci fai le illustrazioni e io in cambio ti do visibilità questo è il tema che qualsiasi illustratore penso non dico che ci sia passato ma che almeno ne abbia sentito parlare no voglia voglia visibilità quindi il lavoro dell'illustratore come anche detto da Chiara molto spesso non viene visto come una professione fa disegnini cioè una persona che disegna quindi disegnare non viene considerato un lavoro vero e proprio ok e si finisce per non da tutti ovviamente non voglio fare di tutto un armonofash però da alcune persone viene considerata in questo modo e quindi molto spesso si mettono nella posizione di giudicare il tuo lavoro e di dire sì vabbè non c'è bisogno che io ti paghi no quindi assolutamente no io almeno inizialmente ci sono accaduta anch'io ma è normale cioè secondo me ho un percorso che che c'è chi magari riesce ad evitarlo probabilmente te con il carattere più forte sei riuscito ad evitarlo c'è chi come me che c'è un carattere magari un pochino più timido un pochino più come dire che fa marcia indietro che dice vabbè proviamo alla fine no un'esperienza e poi ci rimane fregato perché questo è quello che è successo fondamentalmente diciamo diciamo che io non è che non ci sono cascato perché c'ho il carattere più forte ho fatto la scuola prima di fare illustratore ho fatto una scuola molto più massacrante dell'illustratore cioè del campo editoriale quello della pubblicità il campo della pubblicità è proprio lì veramente devi essere lì impari tantissimo certo diciamo già ero vaccinato come si dice per il discorso come affrontare i editori perché appunto io affrontavo che facevo l'art director molto spesso facevo anche l'account e poi lavoravo per clienti come la Nestlé insomma con la Liebi che ho lavorato anche quando era a Roma con la L'Italia con la Renault quindi diciamo ero comunque anche con gli altri eravamo sempre a contatto con il cliente direttamente quindi impari molto perché quello è ancora peggio come ambiente l'ambiente della pubblicità ancora peggio di quell'editoriale lo so no perché nel campo editoriale capito c'è un minimo di competenza anche da chi poi no le persone con quale tu ti confronti in pubblicità molto spesso no cioè c'è tantissima gente ignorante veramente capito che vuole lasciare la sua impronta e quindi è un è un è un terreno massacrante quello da pubblicità e fa scuola fa scuola sicuramente se non altro per il rapporto con con il committente no 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 questo sì ma infatti mi ci ritrovo molto devo essere onesta sì hai perfettamente ragione anch'io c'ho insomma magari non ai tuoi livelli però ho a che fare appunto anch'io con la pubblicità adesso attualmente e infatti forse anche quello che mi ha un pochino più reso non forte ma più espansiva anche perché la me di quando mi hai conosciuta tu qualche anno fa non avrebbe mai fatto questo format non ci avrebbe mai messo la faccia quindi già questo per me è veramente un non lo so un grande mettersi in gioco e può aiutare tutto serve sicuramente assolutamente io volevo poi farti come dire un'altra domanda ma più che altro sempre un consiglio riguarda le difficoltà cioè come tu hai superato le difficoltà quali sono stati innanzitutto queste difficoltà che hai incontrato durante il tuo cammino e so che hai un carattere appunto come abbiamo detto forte sei determinato quindi magari le affronti in maniera diversa rispetto a qualcun altro ognuno le affronta in maniera differente però appunto se ci puoi dire dei momenti in cui proprio hai detto porca miseria questa è difficile da spangarla come la risolvo allora la determinazione secondo me è un luogo comune ma è data anche poi dall'età cioè nel senso poi crescendo comunque il carattere cambia cambiano le esigenze quindi diventi determinato anche perché poi l'età comunque il fattore età incide su questo anche se poi mentalmente rimani sempre uno dei 18 anni quello no però per altre cose comunque serve insomma ecco fa scuola insomma l'età andare avanti le difficoltà beh quelle sarebbe stupido non ammettere che ci siano state difficoltà e momenti di sconforto però diciamo soprattutto è stato quando ho abbandonato il mondo della pubblicità per entrare nel mondo dell'editoria vi è stato veramente un rischio grosso perché io lavorando per la pubblicità facendo l'art director ero anche ben stipendiato insomma sicuramente quindi il fatto di troncare tutto perché poi ti premetto che io molto spesso mi capita adesso che mi chiedono anche le illustrazioni io non faccio più neanche le illustrazioni per la pubblicità ah zero ho chiuso completamente ma non lo sapevo questo no 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 le illustrazioni me le hanno chieste ma non cioè ho deciso proprio di tagliare i ponti con la pubblicità perché è un ambiente che io quando mi sono messo a fare illustratore sono rinato ho riconquistato 20 anni di vita però capito quando io ho abbandonato la pubblicità che appunto ero ben stipendiato avevo lo stipendio alla fine del mese e poi lavoravo tre giorni a settimana in un'agenzia e altri due giorni praticamente ero un freelance quindi lavoravo per altre agenzie ovviamente non per gli stessi clienti e quindi diciamo è stato un anno all'incirca dove io praticamente non sapevo come andare avanti cioè nel senso riuscirò a fare qualcosa ho lasciato là sai lasci quando lasci uno stipendio sicuro e anche ti dico anche consistente era un bello stipendio insomma cioè ai livelli delle agenzie del nord insomma perché ho capito perché perché no io non è che facevo solo al direct poi facevo anche l'illustratore quindi diciamo le mie mansioni erano più di una all'interno dell'agenzia poi i clienti erano anche clienti importanti però sai io sempre sono stato sempre della filosofia di vivere alla giornata sì mi preoccupo per il domani ma io oggi cioè devo vivere oggi capito e preparare comunque tutti i presupposti per il domani però non è che vado alla ricerca oddio domani che farò perché poi il panico non aiuta non aiuta è la peggio delle cose quindi devi essere sempre tranquillo poi ovviamente dipende dal carattere che uno ha io ho sempre detto che per me avere un euro in tasca averne mille è la stessa cosa nel senso non fare proprio una ragione solamente prettamente economica capito perché poi comunque sia diciamo che noi io dico sempre che noi la manciatina di soldi per il tozzo di pane la troviamo sempre quindi la cosa più importante è non cioè accontentarsi di quello che uno ha questo sicuramente e questo ti aiuta comunque a superare anche i momenti di sconforto perché quelli ci sono sempre però ho detto io fino adesso con questa filosofia che forse per qualcuno può sembrare un'idiozia io sono andato avanti e vado avanti tranquillamente e questo mi ha portato a non avere particolari esigenze nella vita per cui tutto quello che viene va bene va bene non mai cercare di più perché tanto poi cioè vuol dire cercare il di più solamente per avere tanto ti porta a avere problemi anche dal punto di vista professionale certo su cui sono convinto tu hai cambiato quindi fammi capire perché non sentivi più di dover lavorare lì in agenzia non ce la facevi più ero stanco perché sai l'agenzia perché allora io dico che chi fa il lavoro come il nostro un minimo di presunzione dovrebbe averla insomma quindi vedere le proprie cose essere riconosciuto dal punto di vista professionale è importante cioè il tuo nome sapere che la gente conosce il tuo nome è importante ma è così io infatti dico sempre che gli artisti sono immortali no? perché comunque sì anche fra 500 anni io dico sempre fra 500 anni qualcuno gli capiterà un mio disegno per le mani magari perché deve andare al bagno non c'ha la carta igienica però il tuo nome lo farà sempre quindi sei immortale capito? nella pubblicità è diverso il discorso la pubblicità era cioè è un lavoro d'equip quindi magari tu sei bravo per carità però non sei non sei valorizzato perché appunto cioè non è per presunzione cioè se tu hai delle capacità è anche giusto che la gente ti conosca per nome certo no 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 è vero è vero magari c'è chi come me non lo so per quale motivo poi stupido c'è questo meccanismo però c'è anche addirittura timore di far vedere i propri lavori di magari dimostrarli di far vedere il proprio nome ti giuro ancora non ho analizzato bene il motivo per il quale c'è questo meccanismo però penso che come me magari ce ne sono tanti altri invece è giusto cioè uno non si deve vergognare di far vedere quello che riesce a fare non si deve vergognare di far vedere quello che è e quello che per cui ha passione poi quindi secondo me non è che tu devi fare cioè che tu sei cioè che il tuo nome deve essere conosciuto per fanatismo insomma no 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 perché la gente comunque cioè ti conosce cioè sa chi sei quello cioè quando vede una cosa sa chi c'è dietro quella cosa lì e quindi capisci molte cose in più rispetto alla semplice immagine che vede quando conosce anche la persona capito? certo questo è importante secondo me no 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 sono pienamente d'accordo anche su questo io vorrei inoltre fare un po' una carrellata anche di tuoi disegni per mostrare insomma quello che ora ovviamente ne abbiamo scelti solo alcuni però insomma per far vedere appunto quello che hai creato durante gli anni e le cose insomma di cui magari vai anche fiero io se sei d'accordo mostrerei Hummus Graficus e adesso non so se ce ne vuoi parlare perché io noto nei tuoi disegni a parte che facendo i live drawing insieme e chi insomma li fa insieme non lo sa tu vedi questi disegni che sono super dettagliati fatti super precisi mostruosamente belli è qualcosa proprio di dirlo e tu dici vabbè ci metterà una vita no cioè finisce prima di te non è possibile e quindi dico oltre al fatto di essere bravo e non è un complimento che ti faccio così ci credo sul serio c'è anche proprio si vede un'abilità nel riuscire a realizzarli anche in breve tempo quindi questo secondo me è da da sottolineare e niente io adesso sto facendo vedere una delle immagini appunto di humus graficus e non so dici un po' come è nato questo progetto magari sì ma guarda a parte come tu sai io sono un amante del bianco e nero più che altro cioè perché io vengo da una da un'educazione artistica appunto dell'istituto d'arte facevo settore della grafica poi l'accademia e quando facevo l'istituto d'arte avevamo una materia che si chiamava disegno dal vero dove ci facevano fare le foto aeree ricostruire e quindi tutti i vari tipi di tratteggio quindi io sono un amante del bianco e nero soprattutto del tratteggio humus graficus è nato così per caso perché quando io vado a fare le fiere del fumetto cioè mi metto a disegnare perché poi sai che nel nostro lavoro il 99% del lavoro è digitale quindi e niente io mi metto a fare queste cose alle fiere del fumetto e quindi avevo tanti di quei disegni fatti che alla fine ho detto perché non farci un volume e qui praticamente ho rubato l'idea al nostro carissimo amico Francesco Biagini salutiamolo salutiamolo ciao Biagini materia oscura aveva fatto questo volume e quindi mi aveva fatto proprio diciamo mi aveva appassionato questa cosa quindi ho detto perché non farlo anche io lui l'aveva fatto nero io ho fatto bianca la copertina quindi vi siete differenziati così però niente ecco questo qui praticamente è una raccolta di questi disegni prettamente grafici diciamo è un prodotto d'elite insomma perché sono 144 pagine mi sembra in circa quindi poi vedi con copertina cartonata sovracoperta quindi diciamo un volume per amatori insomma infatti ne ho fatte solamente 300 copie chiaramente autoprodotto e sono contento appunto quando io a me mi è capitato anche a Cartoon Mix a Milano di averne vendute quattro copie in un giorno a persone che non erano minimamente interessate né all'illustrazione né al fumetto ma solamente perché il prodotto gli piaceva quindi è questo capito che che ti porta che poi sai l'autoproduzione sono dei grandi investimenti questo specialmente è stato un grandissimo investimento e quindi ma io sai quando ho recuperato le spese per me è sufficiente però ecco sono contento quando il prodotto piace poi se rimane in casa pazienza insomma quindi non è che però ecco mi piace insomma appunto quando cioè specialmente le autoproduzioni perché almeno faccio quello che mi piace a me perché poi quando il lavoro è commissionato è sempre comunque lavoro quindi no infatti anche questo è un altro argomento di cui magari parleremo e poi ecco come vedrai lì da unscrafis questo volevo dire cioè lì ci sono delle influenze che molto spesso me lo dicono sono influenze di vari disegnatori che mi hanno comunque diciamo influenzato ecco in tutti questi anni sicuramente dal punto di vista grafico anche se non per carità il maestro però dal punto di vista grafico sono stato molto influenzato dal da Sergio Toppi che ho avuto la fortuna di conoscerlo guarda passarci una serata insieme tantissimi per me è stato il momento più bello della mia vita ti invidio ti invidio anche perché tu sei molto bene quanto anche io ci tenga ma penso un po' tutti però diciamo che ci sono molto affezionata anche io Sergio Toppi quindi poi invece per quanto riguarda l'aspetto grottesco umoristico quello lì sicuramente Iacovitti forse un pochino anche Magnus ma Iacovitti più che altro tant'è che io sono stato definito dal responsabile della Casa Museo Iacovitti uno dei pochi degni eredi del maestro quindi che appunto un complimento di tutto rispetto cavolo grande ma prendendo il pizzicore no fai pure bevi pure se c'hai dell'acqua no la caramella bene no io infatti guarda ce lo vedo anch'io sinceramente quindi posso capire il complimento fatto ecco io guarda ho un altro disegno qua bellissimo che tu non vedi ma io te lo descrivo che è quello di Michael Jackson il libro e anche qua lo faccio vedere perché è un'altra tipologia di lavoro che normalmente tu fai almeno l'ho visto spesso il trovare persone trovare cose queste tavole piene 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 che sono sono fatte veramente veramente bene e uno si domanda anche mamma mia quanta pazienza cioè ti proponi tu nel fare questo oppure è stata pura casualità no guarda tu sai che io sono praticamente 16 anni che lavoro con un'agenzia inglese e lavoro pronto per il mercato inglese americano questa qui praticamente questa è una collana di volumi che tra l'altro sono fatta Michael Jackson Rolly Stone Elvis Presley Beatles che Beatles io però ho fatto solo la copertina poi sulle Kardashians sui giocatori di pallone praticamente questa è la Igloo Books che fa questi libri per adulti dove in mezzo a queste tavole pienissime ci sono nascosti i vari personaggi e diciamo che il primo lavoro di questo è stato fatto l'avevo fatto sempre con l'agenzia inglese per una casa editrice americana che era Hidden Zoo si chiamava erano due illustratori io e un certo Simon Smith e da lì ho cominciato a fare queste tavole piene di persone di particolari che poi a me piace tantissimo e quindi da lì praticamente si è sviluppato tutto questo lavoro con queste tavole piene di persone di oggetti e quindi diciamo che attualmente sono diventato diciamo mi sono specializzato su questo quindi quando ci sono lavori di questo genere con l'agenzia la Beehive praticamente il cliente chiede sempre se io sono disponibile a fare il lavoro perché hanno visto insomma che è stressante come lavoro però è bello è divertente perché tu sai io lavoro molto nella scolastica cioè fare la semplice vignettina che praticamente è diciamo vicino all'esercizio è un po' nonioso dopo un po' se quando fai queste cose è stressante ma alla fine ne esci appagato capito quindi diciamo che mi diverte e un Ivo Milazzo conosci insomma il tuo padre che parte la sera eravamo a cena anche con Claudio Ferracci e la Laura Farina e aveva visto queste cose mie ma ha detto dice ma tu quando disegni queste cose che te bevi dice tocca essere ubriachi per riusci a farle a me sono lavori che mi divertono insomma questi anche se veramente sono stressanti perché no è impegnativo ma si vede loro ti danno linee guida e dicono allora gli oggetti sono questi l'ambientazione è questa poi fai come ti pare quindi capito è una cosa quindi ti lasciano un po' anche libertà e la libertà in questo caso qualche volta ti mette io ho solamente la location dove si svolge la scena e gli elementi da mettere poi il resto posso fare quello che voglio ovviamente prima fai le matite ovvio certo però difficilmente ci sono correzioni insomma ecco ma anche perché poi quando ti chiedono queste cose perché sanno che tu sei all'altezza di farle difficilmente anche perché poi cioè chiedere correzioni su queste cose qui è folle ma poi immagino già la casa editrice che comunque sia sa quello che riesci a fare tu quindi va un po' a colpo sicuro è per quello ovviamente certo non è perché io sia un dio nel fare queste cose perché comunque sanno che possono fidarsi insomma sanno comunque il discorso della passione quando tu fai queste cose devi mettere passione cioè non lo fai tanto per fare il lavoro certo è quello importante no guarda io sono veramente soddisfatta di di questa intervista perché siamo riusciti a toccare un po' i punti di cui volevo di cui volevo parlare per l'appunto e io non so se vuoi aggiungere qualcosa ma dimmi se tu hai qualcosa altro da chiedere io ma io giusto così appunto ma in parte già te l'ho chiesto un consiglio proprio spassionato a chi non ha il coraggio di io già in parte tu hai risposto a questa domanda in realtà perché prima ci hai detto un po' lavorare anche sul proprio carattere cioè magari prima ancora di lavorare sul disegno che uno pensa che sia la cosa più importante che lo è perché per carità uno deve essere capace di disegnare però molto spesso c'è un aspetto che non viene considerato che è quello appunto più personale più intimo quello del carattere e quindi io penso che sia questo ma non so se ho capito bene e quindi volevo giusto lasciarci con questo consiglio e se è quello che appunto che consiglieresti tu è un problema caratteriale innanzitutto nel senso bisogna un po' plasmare il proprio carattere renderlo più aggressivo questo sicuramente e poi ovviamente mai abbattersi insomma insistere insistere cercare di migliorarsi soprattutto però insistere sempre perché se uno ha delle capacità poi veramente se si lascia andare rischia che quelle capacità rimangono lì e il disegno diventa come uno sfogo di una seconda attività che potrebbe essere con rispetto per tutti i lavori di questo mondo per carità perché il famoso detto che il lavoro nobilita l'uomo quello è sempre valido però perché perché cioè buttare via un'opportunità che uno ha solamente perché magari si scoraggia al primo no i no ci sono sempre nella vita se fosse tutto facile sarebbe peggio invece la difficoltà le difficoltà sicuramente aiutano a crescere sia professionalmente sia caratterialmente che come persona quindi ti porta a riuscire ad apprezzare quelle che sono le piccole cose della vita no perché poi io dico sempre quando uno arriva a un certo punto della propria professione non deve mai essere convinto di essere arrivato all'apice perché io dico sempre che anche avendo 63 anni ci sono persone io sono bravo sarebbe inutile non dirlo però ci sono persone molto più brave di me e persone meno brave di me e io dico sempre bisogna sempre imparare da quelle più brave di te ma anche da quelle meno brave di te perché tutti possono dare un contributo però è importante l'importante andare avanti e essere convinti e mai mai lasciarsi andare questo assolutamente bene grazie io direi che con questo ci possiamo lasciare io dico solo che la prossima intervista la faremo con David Ferracci e quindi e parleremo della comfort zone che un po' un po' ci siamo avvicinati anche oggi alla comfort zone però parleremo di quello molto probabilmente facessi la messa in piega ai baffi facci la messa in piega ai baffi comunque per dire per l'ultima cosa per dire vedi che io qui ho Topolino eh infatti l'avevo notato cavolo per l'ho citata forse non so se è una coincidenza o un segno del destino ma io sono stato sono nato lo stesso giorno sì infatti 18 novembre grande grande ottimo guarda Moreno io ti saluto saluto con te anche Topolino e ti ringrazio ancora ovviamente ma no grazie a te grazie a te io almeno provo a fare del mio meglio e a tutti quelli che avranno il coraggio di sopportare queste mie chiacchiere perché no sono utili secondo me sono utili per ridere per chiudere io vi sto facendo le mie cose e sono un umorista sì per cui da piccolo mi vergognavo del cognome ma adesso invece mi fa gioco perché è un nome d'arte che già ho vero è vero non ci avevo pensato ma giusto poi quando mi dicono ma parli troppo devo rendere onore al mio cognome eh per forza grazie ancora Moreno ci sentiamo presto e ti mando un grande saluto e alla prossima ciao 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 grazie per essere arrivato fino alla fine del video spero ti sia piaciuto e se avete riscontrato anche voi un'esperienza simile a quella di cui abbiamo parlato con Moreno vi invito a scriverlo nei commenti e se avete anche altre domande anche lì scrivete assolutamente senza problemi nei commenti perché potremo poi approfondirli nei prossimi video e se appunto vi è piaciuto il canale vi invito a mettere un mi piace e ad iscrivervi al canale mi raccomando la campanella per avere sempre la notifica dei nuovi video ci vediamo a presto non è registrato non mi dire che non è registrato no solo per vedere come presto a presto a presto Grazie.